Per noi l'ingresso su Bolognano è fondamentale, specialmente in un periodo molto caldo per questo territorio perché come Regione Abruzzo stiamo fronteggiando la problematica ormai annosa di Bussi e di Piano d'Orta, della ex Montecatini, quindi un problema della più grande riscatica d'Europa e quindi avere degli amministratori Fratelli d'Italia che lavoreranno gomito a gomito con il sottoscritto, con il Presidente, con la Commissione d'inchiesta e d'indagine sarà importante per cercare di risolvere o quantomeno di dare un segnale concreto a un territorio che è stato vessato ormai da decenni.